la coppia che scoppia la coppia che scoppia wow wow state zitta e porta rispetto e come se dice nelle parti due a bacia le mani questo è il mio figlio e state zitto ha capito pure tuo figlio pure tuo figlio certo c'è tu i ragazzini che non lo sapevi pure quindi tu hai pure un altro figlio non avete truffato questo qua è grande questo qua è campione delle truffe oggi ti fanno piangere oh e cosa c'è di male perché cosa vuoi cosa c'è di male io sono te la scusa ma vengo della stazione da due pizze calma calma raga calmi calma sculla sculla si calmi faccia calmare pure a suo figlio perché io non c'ho nulla contro di voi non c'ho nulla non c'ho assolutamente nulla però voglio sapere ogni volta perché mi spammi cosa cosa trovi di bello sono bellissimo sono bellissimo che hai fatto l'altro giorno al negozio dei guana ho stato andato per stracci per stracci è nato i guana che poi che poi zitto lui oggi io non c'ho la roba che mi inculava ogni volta che dovevo fare consegne e raggio e collucente tutto me piavo ma che me frega a me quello mi dava tutto a mano ma che me frega ti guarda comunque il negozio è chiuso perché maleva io voglio sapere il perché siete voti qua dentro cosa volete cosa volete perché siamo venuti dove perché ogni volta mi vuoi truffare ogni volta mi vuoi truffare perché perché io vado subito al sodo vado sempre da quelli ricchi no che so credita che vado dai morti nei fame quelli la che c'hanno un c***o poi 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 ti devo di pomo una cosa mio figlio quell'altro non sa questo quell'altro eppure mio marino saverio ha capito sti tu traditori se so pure venuti a farlo per farlo so pure se fanno i tuoi su youtube e dove stai a farlo con sto qua che stai a farlo se sto messi a ridere e te sei la coglia a scambiare e non ci fa ridere questo hai capito pure se fanno i tuoi te devo sfondare basta scuola basta 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 cioè ma non ti rendi ridicolo ma non ti rendi ridicolo basta si può portare la misia che non è veloce ma fa tutto ma ma dobbiamo fare lo scambio serio a posto ma 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 l'ho ma ma mi 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 stai zitto di fare zitto che si è ridicola c'è ridicolo se ridicolo sei da ricovero sei da ricovero devi fare zitta di stare zitta mamma basta se dobbiamo scambiamo non urlare più a parte i doni che vengono dall'ate da due pizze adesso c'ho da buttone sotto stai zitto come ti permetti stai zitto te la gasfonda tutto eh ti butto tutto da sotto eh stai zitto basta calmateli poi apri la porta della stazietta basta basta calmatevi calmatevi vogliamo scambiare siano vogliamo scambiare scambiare va bene tra i permessi va bene ecco a posto sono andate a posto cosa mi offre oggi la carità che sta a dire bello guarda che mi ha fatto la pettina e babbole qua solo la baseria sacco di anni già basta portato tutte quelle della tante perché m'ha dato un guado una ma è un 500 anni ce l'avete un dettaglio è tutto tra pane ogni volta ogni volta devo troppare sempre io perchè giustamente va bene ho capito ma c'è troppa io mi prendi la roba ma ho stato fatta famo serio va bene va bene facciamo questo scambio serio allora io intanto vi sto per troppare il mio inventario no 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 si 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 aspetti però aspetta devo troppare il mio inventario fammelo troppare lo sto troppato ecco quelli la vero poi io voi si si quelli 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 ho troppato brava brava ho trovato una parità vieni 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 per due armi 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 l'avevo truffato il Kingdark per due armi per due armi per due armi sono lega che fa bene andate là sotto si sa buonissimo basta scambiare si la mente là sotto andate là sotto e sto zitta adesso passi permesso non vedo più basta bravi mi avete un fatto due anni bravi bravi vi siete vantati vi siete vantati la regina va bene va bene adesso passano scuola scuola faccia miseria basta io sono una persona seria io sono una persona onesta quindi adesso troppo poi io salto e troppate voi a posto dai io troppo ho troppato ho troppato vai troppate pure voi troppate pure voi dai troppate vai troppate vai troppate vai troppate avete finito vai veloci avete finito veloci veloci salto sto saltando ok ok avvicinatevi avvicinatevi mamma vai solo tu avvicinatevi 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 salta 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 avvicinatevi avvicinati avvicinatevi ma che fai vai posso aprire posso aprire posso aprire zitta 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 ma che stai a posto calma 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 a posto ho fatto il botto madre e figlio madre e figlio truffati madre e figlio truffati madre e figlio truffati boom boom se n'è andato via e non ritorna più suo figlio se n'è andato via è scomparso è scomparso vi ho distrutto vi ho distrutto boom 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 zitta zitta ho fatto il botto mi stai zitta boom boom speri ma roville dazakah madre e figlio distrutti madre e figlio distrutti madre e figlio sin guagliel'a mio figlio droga subito subito madre e figlio disturbati madre figlio kidding st bh 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 a casa è sempre la sesta storia scuola calita mamma calita mamma calita mamma calita mamma calita mamma calita io ho distrutto madre e figlio non c'è nulla gollevo gollevo chiamarale mai non mi piace di url 3 4 4 Grazie a tutti.